Fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla solennità del Corpus Domini, il corpo del Signore, l'Eucaristia, quel Dio che è salito in cielo e che domenica scorsa abbiamo ricordato che un Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, quel Dio che è amore, continua a essere presente con noi, in mezzo a noi, nell'Eucaristia, Corpus Domini, corpo del Signore. È lì che noi lo incontriamo, è lì che continuiamo a fare esperienza dell'amore di Dio. Quel Gesù che è salito al cielo non ci ha dunque abbandonato, ma è rimasto presente proprio nel semplicissimo segno del pane, nel pane consacrato, presenza viva e reale del Signore, come anche testimoniano i tanti miracoli eucaristici ancora inspiegabili sotto il profilo scientifico. Quel Dio che è presente nell'Eucaristia, pane degli angeli, pane del cammino. Sì, domenica scorsa, nella festa della Santissima Trinità, ci è stato ricordato che siamo chiamati ad andare in tutto il mondo per battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, cioè per immergere coloro che incontriamo, per immergere, coinvolgere nell'esperienza dell'amore di Dio. Ma affrontare questo cammino non è facile, non è semplice. Abbiamo bisogno di un nutrimento che ci renda capaci di assolvere a questo compito. Quel nutrimento è proprio il pane degli angeli, il pane del cammino. I testi della liturgia ci aiutano a comprendere questo grande mistero. Nella prima lettura tratta dal libro dell'Esodo veniamo aiutati a comprendere il valore dell'alleanza. Nel momento della fuga dall'Egitto, Dio ha dato un compito. Prendete il sangue e segnate gli stipiti delle case. Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. Segnate con questo sangue e partite. Andate, perché poi quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto. Ma dove troverò il sangue degli stipiti delle porte io andrò oltre. Ebbene andate e state saldi. Sappiamo che il popolo poi ha disobbedito costruendo un vitello d'oro pensando che la liberazione fosse avvenuta per un vitello d'oro, per le opere umane ma non per la grandezza di Dio. Ed ecco che Dio promette che scriverà una nuova alleanza non più scritta su due tavole di pietra, quelle tavole che Mosè ricevette nel deserto, ma è scritta nei cuori. Ebbene quando ora ascolteremo il Vangelo comprenderemo proprio questo passaggio. Gesù prese il pane, lo spezzò e disse nell'antica alleanza Mosè ha presentato un libro che conteneva la legge. Gesù nell'Eucaristia presenta se stesso. Questo è il mio corpo. La nuova alleanza dunque non consiste più nell'accogliere una legge che viene fuori, ma chiede solo di essere accolta un amore che viene donato. Gesù prese il pane, prese il calice e donò. Quello che fa Gesù è farsi lui stesso dono per noi e farsi lui stesso legge per noi. Ecco la nuova alleanza iscritta nei cuori. Alzerò il calice della salvezza, canteremo nel Salmo, e invocherò il nome del Signore. Sì, la nuova alleanza non è più fondata su parole scritte su pietra, ma è amore nel sangue versato e si nutre di amore. Questa è la nuova alleanza che Gesù ha sigillato, morendo in croce per noi, ma anticipando questo dono proprio nella tavola, nell'ultima cena. Gesù dunque è l'eterno ed unico sacerdote. Ci ricorderà il testo della seconda lettura, tratta dalla lettera agli ebrei. Ed egli che è entrato una volta per tutte nel santuario e in virtù del suo sangue ci ha salvato, non più dunque in virtù del sangue degli agnelli, ma nel sangue del suo figlio Gesù, Dio Padre, ci ha salvati. L'Eucaristia dominicale dunque è appuntamento con Gesù stesso, dove lui si dona a ciascuno di noi nella sua parola e nel suo pane spezzato. Ma attenzione, in un tempo in cui va di moda dire che io prego Dio in camera mia o nel mio cuore, non sottovalutiamo il fatto che l'Eucaristia dominicale mi dona anche la gioia di essere fraternità, comunità, una comunità di fratelli e sorelle radunati nel nome di quel Dio che è Padre, Figlio e Spirito. Perché quel corpo di Cristo non è solo l'Eucaristia, ma è anche la comunità. Nel giorno dell'Eucaristia noi invochiamo e preghiamo Dio che mandi lo Spirito perché trasformi il pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù. Ma preghiamo anche, dopo la consacrazione, preghiamo anche Dio che mandi lo Spirito a fare della sua comunità, del suo corpo una cosa sola perché il mondo creda. Non sottovalutiamo questo aspetto. Può capitare che non comprendiamo la messa, può capitare che non comprendiamo l'omelia, può capitare, ma senza comunità non c'è chiesa. Ed è proprio durante l'Eucaristia che noi imploriamo da Dio il dono dello Spirito perché ci renda una cosa sola. E allora ecco che siamo chiamati a vivere con gioia questo appuntamento dove Dio offre qualcosa a noi e noi contribuiamo offrendo a Lui il lavoro e l'impegno della nostra settimana e diventa una sola cosa offerta, gradita a Dio. Nell'Eucaristia dunque Dio non ci chiede di essere forti ma di allearci con il forte che è Gesù stesso perché è Lui che ci può rendere una cosa sola. Nell'Eucaristia noi ci uniamo al pane e al vino offrendo a Dio il frutto del lavoro della settimana ma anche quello che ci attende. Ma vorrei sottolineare un altro aspetto. Nell'ultima cena Gesù inviterà i discepoli ad andare al piano superiore per preparare per la Pasqua. Quel piano superiore sta in alto ed è anche un luogo teologico cioè ci richiama un impegno importante. Dio dà ai discepoli e oggi a noi l'appuntamento a salire, a innalzarci perché qui avviene l'ultima cena. Qui si attende lo Spirito. Salire al piano superiore è un modo per dire che noi siamo fatti per cose superiori. È un modo per dire che noi ci meritiamo qualcosa di più. È un modo per dire che dobbiamo imparare a guardare verso l'alto perché noi siamo rinatti dalle cose dell'alto, dallo Spirito. Salire al piano superiore significa puntare in alto. Partecipare all'Eucaristia significa lasciarci proiettare verso le cose del cielo, significa lasciarci invitare a pensare, sentire e agire in modo diverso, superiore, verticale, secondo Dio e non secondo gli uomini. Salire al piano superiore significa riconoscere nell'Eucaristia quel cibo superiore che ci rende superiori non perché più importanti ma perché capaci di pensare e sognare come Dio. Chi mangia di me vivrà per me dice Gesù e vivrà in eterno. Non lasciamoci allora appiattire dalle cose banali della vita ma lasciamoci innalzare dal Signore. Lasciamoci sollevare su ali d'aquila. Pensate a quelli che volano in alto. Lo sguardo è completamente diverso perché lasciarci innalzare verso l'alto non significa sentirci superiori o estranei alla storia ma significa lasciarci prendere in disparte dal Signore perché Lui parli al nostro cuore. Ci nutra del pane degli angeli, ci nutra della Sua parola per imparare ad amare come Lui ci ha amati. L'Eucaristia è anticipo, potremmo dire che è antipasto, prenotazione dell'eternità, della cena del paradiso. Lasciamoci nutrire da Lui per imparare a passare dall'Io al noi. L'Eucaristia è esperienza di cielo e anticipo del banchetto del cielo. Ci permette di partecipare alla tavola dei nostri cari che già ci hanno preceduto, che già godono della cena del cielo e del banchetto del cielo e noi ci uniamo alla loro stessa tavola. Questa stanza al piano superiore non è semplicemente un luogo ma è un'esperienza dove siamo chiamati a lasciarci coinvolgere dall'amore di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio ci invita a noi dire il nostro eccomi con prontezza, evitando di lasciare perdere l'Eucaristia dominicale perché appiattiti nelle cose da fare. Marta, Marta, ti affanni per tante cose? Una sola è la cosa che conta. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. E di fronte a questa parola che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere, la prima è la colletta che riassume proprio il messaggio biblico. Ascoltate. Signore Dio vivente, guarda il tuo popolo radunato intorno a questo altare. Vedete che il primo dono dell'Eucaristia è il popolo radunato per offrirti il sacrificio della nuova alleanza. Ed ecco qui il tema della prima lettura, il tema dell'alleanza. Perché alla cena dell'agnello, Gesù, possiamo pregustare la Pasqua eterna. Ecco l'Eucaristia, anticipo del banchetto del cielo. Io rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera vorrei augurare a voi tutti una buona festa del Corpus Domini perché e affinché ciascuno di noi possa diventare tabernacolo vivente, portando in mezzo agli altri la gioia che portiamo dentro nel cuore. Buona festa! Signore Gesù, nell'indicarmi di seguire l'uomo con la brocca d'acqua, tu mi fai capire di seguire i passi di quanti vivono sul serio il battesimo. Aiutami a imitare quanti vivono una misura alta della vita. Signore Gesù, nell'invitarmi al piano superiore, tu mi chiedi di abbandonare una piattita condotta di vita. Aiutami a lasciarmi trasportare dei desideri che tu ispiri nel cuore. Signore Gesù, nel donarmi pane e vino, tuo corpo e tuo sangue, tu mi insegni che la vita o è dono o non è vita. Aiutami, nutrito di te, a fare della mia vita un'offerta gradita al Padre. Signore Gesù, nel riunire i tuoi discepoli attorno alla tavola, tu mi insegni che non c'è eucaristia senza fraternità e non c'è fraternità senza servizio. Aiutami a fare della mia vita una vita eucaristica.